Cari follower, eccoci alla quarta video recensione vintage della serie MMPR o Mighty Morphin Power Rangers. E qui facciamo un salto diretto alla terza stagione, o al film del 96-97, non mi ricordo mai. E qui abbiamo i Ninja Zord, abbiamo il lupo, la rana, la scimmia, l'orso e la gru. Non chiedetemi perché cambiate loro i Zord con questi, perché mi ricordo vagamente il film. Nella serie TV mi sono saltati i pali in frasca, quando la seguivo, quindi non ho idea perché saltino fuori questi. Comunque, questi qui sono quelli usati nella serie TV, hanno qualche molta vaga somiglianza con quella primitivissima CG del film. Vediamo subito un confronto di stanza. Qui abbiamo un deluxe e vediamo che la scimmia è alta uguale. Anche qui abbiamo almeno una quindicina d'anni di differenza. Qui abbiamo un Voyager. E diamo un'occhiata alle varie bestie. Partiamo dalla grana, che era lo Zord del Ranger Nero, casualmente. E credo che sia il modello migliore dei cinque. La scultura della grana mi piace un sacco. Molto ben dettagliata. Ed è molto posabile. Abbiamo un perno qui sulla zampa, un altro perno qui sulla spalla e qui abbiamo tutta la gamba. Abbiamo un ratchet qua, che fa i 360 gradi. Abbiamo un ratchet al ginocchio. e anche il piede è posabile. Quindi con un po' di equilibrismo è quella che salta. Ovviamente tutto questo deriva dal fatto che queste qui sono le gambe del Megazord. Abbiamo un altro perno qua, che serve per la trasformazione. E quella rana da sola non si usa. Passiamo alla parte centrale. L'orso. Questo coso giallo, che tiene fra le chiappe la mano sinistra del Megazord e lo stomaco dovrebbe tenere la mano destra, ma piccolo problema del mio modello non c'è mai stata. Quando me l'hanno regalato ho tirato fuori questo coso di cartone e comunque si aggancia, si incastra in questa scanalatura qui. In questo modo. mentre la mano qui si aggancia su questa mezzaluna attraverso questa fessura qua. Articolazione. Le gambe le zambe posteriore vanno indietro per la trasformazione. I pezzi saltano. Quello anteriore ha un minimo di movimento. Ma più che altro il suo movimento è questo. Si chiudono su molla e si tirano indietro per formare il torace. Per il resto sì. Proprio il minimo sindacale. La bocca si apre e si chiude ma c'è questo pezzo che deve stare qua sotto in modalità animale che gli impedisce il movimento se no libero hanno buona apertura delle macelle. e per la trasformazione in Megazord questa si rimette a modi museruola. Poi passiamo al braccio sinistro e abbiamo il lupo. È un blocco unico che ha articolazione alla mascella può essere aperta e anche molto. la coda è su un perno per la trasformazione e le gambe fanno avanti e indietro su un ratchet ma anche questo per la trasformazione. Basta nient'altro avresti tutto un unico blocco. E qui abbiamo il perno sì l'aggancio per la modalità Zord. Poi abbiamo la scimmia che con questa faccia che sembra quasi pseudo-giapponese potrebbe essere la classica riproduzione del Son Goku della leggenda non quello di Dragon Ball quello originale. Ha due spade me ne è rimasta una sola sono uguali e si potrebbero combinare per formare una doppia lama. Possono essere impugnate molto liberamente molto lasche e abbiamo qua due perni per tenerle sulla schiena. Articolazione la testa non ha niente la spalla fatta a 160 gradi su un ratchet e il gommito va su e giù per la trasformazione. Niente in vita e i dettagli qua dietro li ho dipinti io quella volta perché se no questo bello argento e oro si ferma qua. conosce non abbia niente i piedi fanno questo. Basta. E soltanto nella modalità diciamo animale funziona così. Tra l'altro ho letto sulla Wikipedia che questo qua è il primo Zord che è già un bipede umanoide prima di combinarsi. Verrà seguito degli Shogun Zord che sono tutti degli umanoidi ma prima di questo erano tutti bestie quadrupedi o volanti. Ultimo abbiamo la gru che era quello del Ranger Rosa. Articolazioni la testa su un perno abbiamo il perno sul collo ma per la trasformazione perché qui abbiamo la faccia del Megazord e le lette si chiudono ma per formare la testa del Megazord e basta. per il resto non fermare la carte. A questo punto passiamo direttamente alla composizione del Megazord. Questo Megazord a differenza della prima generazione e mi sembra anche della seconda non ha una modalità intermedia. Abbiamo gli Zord singoli e il Megazord. Non c'è una modalità di combattimento come il caro ramato del primo. Partiamo dalla rana versiamo le gambe e i piedi finiamo sul perno a metà del corpo e infiliamo le zampe sotto le ginocchiere in questo modo. Quindi le mettiamo in modo che siano a contatto con la coscia e poi drissiamo la gamba e qui è ecco qua. Scazza e diventa un blocco unico. Questo è il blocco delle gambe. Poi tiriamo via questi pezzi soprattutto dall'orso gli mettiamo la musa in bocca prendiamo le zampe anteriori stringiamo e portiamo in basso. Prendiamo il muso e su questo binario qua che si vede benissimo collasciamo il tutto. Prendiamo le zampe posteriori e le ruotiamo di 90 gradi qui abbiamo un blocco qui sono libere e qui abbiamo un altro qui abbiamo una linguetta e due clip qui abbiamo due linguette e una clip e le lanciamo così. A questo punto prendiamo la scigna sganciamo le braccia che si agganciano attraverso dei piccoli perni qua dentro apriamo la schiena collasciamo le braccia e le chiudiamo dentro richiudiamo la schiena e collasciamo le gambe poi in teoria dovremo mettergli il pugno sopra la testa questo qui va sul braccio destro presso questo perno lo infiliamo in questo forno nella gamba dell'orso passiamo al lupo prendiamo le due gambe le portiamo indietro fino a fine corsa le zampe posteriori in avanti e chiudiamo la coda prendiamo la seconda mano che è in una posizione come se fosse di taglio mentre questo doveva essere un pugno chiuso le infiliamo in faccia e qui abbiamo piccoli clip che vanno ad agganciarsi attorno al muso con la stessa porta lo agganciamo sul braccio sinistro e poi facciamo la testa molto semplicemente portiamo la testa della gru e la attacchiamo alla coda la appoggiamo alla coda perché non si aggancia chiudiamo le ali e qui abbiamo due clip e un bel vuoto qui abbiamo due pernetti e questo quadrato e li agganciamo qua sopra e qui abbiamo il ninja megazord o mega ninja non mi ricordo uno era il nome della versione della serie l'altro era quello del film giusto per rendere cose più divertenti avevano lo stesso nome ma le lo giravano facciamo le articolazioni vabbè è un mattone abbiamo le spalle fa 360 gradi in avanti la gamba non ha niente in avanti piega il ginocchio e volendo può andare indietro no non va indietro quindi piega solo il ginocchio un po' avanti va se il ginocchio è piegato e il piede fa solo giù nient'altro qui abbiamo il nostro bel mattone terza generazione mettiamo il mattone prima generazione vediamo che sono più o meno alti uguali questo è più massiccio questo è un po' più alto perché è la testa della gru qui abbiamo il bacon di prima qui abbiamo di nuovo Springer abbiamo di nuovo Optimus e si vedono i 20 anni di differenza 20 anni più o meno bene che altro possiamo mettere la mascotte mi casa e come sempre per quelli che non hanno idea delle dimensioni di un Transformer qui abbiamo un DVD ora questo qua come il Megador precedente potrebbe combinarsi con lo Zord del sesto Ranger che in questo caso è il Falcon Zord che come il Dragon Zord era venduto separatamente come la Tigra Bianca per i Thunder Zord che mi mancano e lo vedremo nella prossima recensione quindi per ora è tutto ah ecco una cosa accessori eccoli qua quello che vedete è quello che c'è nella scatola se proprio vogliamo come accessori abbiamo le spade possiamo possiamo sempre canzarle alla rovescia sulla schiena della scimmia e abbiamo lo Zord di Assassin's Creed faccio un piccolo appello a chiunque veda questo video se avete la spada e la testa della scimmia il pugno della scimmia mandatemi un messaggio o su google su frondeauturbo.it e si vorrei tanto sistemarlo questo giusto per la cronaca la spada che ho io è quella con i buchi ho perso la sua gemella che aveva i due perni per agganciarla e non ho idea di dove sia finita questa forse potrebbe anche essere leggero per caso da qualche parte ma il pugno non l'ho mai visto mai avuto in vita mia vorrei tanto averlo e dopo questa spudorata autopromazione vabbè chiamiamo l'autopromazione vi saluto e ci vediamo alla prossima recensione ciao ciao